Tripudio di bandiere e canti nel campo Santa Maria l'Antigua della Sinta Costiera a Panama per l'apertura della GMG. Sulla baia che si affaccia sull'Oceano Pacifico è stato allestito un megapalco dove i ragazzi sono stati accolti da una serie di gruppi musicali che si sono alternati per tutto il pomeriggio del 22 gennaio. È una festa con balli, canti e urla di gioia. È l'energia dell'America Latina. Ma nel profondo hanno tutti, senza differenza di colori e confini, la stessa preoccupazione e lo stesso desiderio di pace e giustizia. Arrivano da contesti provati da profondi problemi sociali e situazioni politiche che stanno avendo un profondo impatto sulla vita delle popolazioni, migrazioni, povertà, disperazione. È la terza GMG in Latinoamerica. La prima fu in Argentina nel 1987 e la seconda per il Papa latinoamericano dopo Rio 2013. La vicinanza geografica facilita i viaggi. I ragazzi messicani raccontano di aver lavorato due anni per poter venire qui e per la prima volta nella storia sono quasi 500 i giovani cubani arrivati a Panama per partecipare alla grande festa della GMG. Alle 17 in punto il grande coro, al lato dell'altare, comincia a cantare. Anche la liturgia mostra tutta la vivacità e il ritmo dei giovani. L'arcivescovo di Panama, Monsignor José Domingo Uloa Mendieta, concelebra con 400 vescovi, tra di loro anche Monsignor Nazareno Marconi, vescovo di Macerata. Nell'Omelia si parla di una GMG per i giovani delle periferie esistenziali e geografiche, definendola un balsamo per la difficile situazione in cui versano molti di loro che vivono senza speranza, specialmente quelli indigeni e afrodiscendenti, quelli che emigrano a causa della risposta a quasi nulla dei loro paesi di origine che partendo si espongono al traffico di droga, alla tratta di esseri umani, alla criminalità e a molte altre malattie sociali. La strada indicata dal presule per affrontare le sfide della vita è l'Eucaristia, nutrimento spirituale. Ribadisce che la chiamata di Cristo è valida, perenne, intensa, piena di tenerezza. Grazie a tutti.